Il nostro studio utilizza software gestionali di ultima generazione, garantendo servizi 24 ore su 24. Ogni condomino ha accesso a un'area riservata sul nostro sito, con username e password inviate direttamente dallo studio. Nell'area riservata è possibile visualizzare l'estratto conto del condominio. Accedi a tutte le fatture del condominio, con dettagli su spese e movimenti bancari. Visualizza la tua situazione di rate e versamenti aggiornata al mese precedente. Confronta il preventivo dell'anno precedente con le spese attualmente registrate. Consulta la sezione interventi per sapere quali lavori sono in corso o programmati, come la pulizia delle fosse biologiche. Archivio documentale condominiale. Accesso trasparente e completo. Nel nostro sito, ogni utente ha accesso a una sezione documenti completamente riservata. Troverai tutti i verbali delle assemblee, per rimanere sempre aggiornato sulle decisioni prese. Consulta i bilanci del condominio, con dettagli su entrate e uscite. Visualizza tutte le comunicazioni e le circolari inviate dallo studio. Accedi alle tabelle millesimali, fondamentali per la ripartizione delle spese. Controlla i registri di verifica della potabilità dell'acqua, per garantire la sicurezza di tutti. Consulta il regolamento di condominio, per conoscere i diritti e i doveri di ciascun condomino. Visualizza tutti i contratti stipulati, tra il condominio e i fornitori esterni. Interventi e segnalazioni. Gestione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi alla sezione Interventi e segnalazioni sia dal nostro sito che dall'applicazione mobile. Con un semplice clic sul pulsante Bisogno d'aiuto, avvia una segnalazione. Puoi scegliere tra i fornitori designati del condominio. Trova il numero di telefono diretto del fornitore, per esempio per le fosse biologiche intasate. In alternativa, invia una segnalazione via mail direttamente al fornitore. Consulta lo stato delle tue segnalazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una gestione sempre disponibile. Il nostro sistema gestisce rapidamente l'intervento, garantendo una risposta efficace. Riceverai una conferma via mail con il riepilogo dell'intervento richiesto. Hai problemi a ricordare le scadenze delle rate del condominio e spesso rimani in ritardo. Noi inviamo un promemoria della scadenza 10 giorni prima e una il giorno della scadenza. Quindi non dovrai più ricordare anche questo. Paga le tue rate tramite il servizio di MobiPay con un solo clic. Offriamo un servizio continuo per soddisfare tutte le tue esigenze, perché il mercato richiede sempre più presenza. Studio Russo Giulio Amministrazioni Condominali. Sempre al tuo servizio.